Dory Lumen, l'innovazione made in Aquifix che sposa il settore dell'illuminotecnica a quello della componentistica per cartongesso. Negli anni abbiamo studiato e rivoluzionato il concetto di botola di spezione combinando più materiali e tecnologie per offrire al pubblico illimitate possibilità di installazione e design. La rivoluzionaria botola Dory Lumen si distingue per la sua plafoniera LED ultra piatta integrata direttamente nello sportello per creare un'elegante illuminazione filo cartongesso evitando antiestetiche sporgenze per una resa ineguagliabile. Un notevole risparmio di tempo, anziché montare separatamente la botola di spezione e la plafoniera, da oggi avrete tutto in un unico prodotto. Essendo una botola della gamma d'orica, Dory Lumen condivide tutte le eccellenze tecniche e anti-infortunistiche di quest'ultima. Solido tenaio in alluminio, Made in Italy, verniciato bianco di spessore 2 mm, rivoluzionari angolari arrotondati in nylon caricato in fibra di vetro, dispositivi click-clack per una comoda e duratura apertura dello sportello, il brevettato profilo Shark per un perfetto assorbimento dello stucco, integrabile con i sistemi di sicurezza opzionali d'orica quali appositi cavetti di sicurezza e il kit di incernieramento Ancon per evitare lo sgancio accidentale dello sportello durante la fase di ispezione. Product Plus, grado di protezione IP40, temperatura colore 4200K, ideale per ispezionare controsoffitti in cartongesso e allo stesso tempo illuminare gli ambienti con il massimo risparmio energetico. Tecnologia LED, 4200K, luce bianca. Prodotto brevettato, disponibile nelle misure 30x30 cm e 60x60 cm. Accessori inclusi, la botola è fornita con un trasformatore e un cavo di alimentazione integrato nella stessa per un comodo e rapido cablaggio. Grazie a tutti. 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 Dori Lumen.